Cartier Tank American, un orologio iconico e raffinato. Tutto inizia nel 1917 quando Louis Cartier, il fondatore della casa di moda, rivoluziona il mondo degli orologi da polso con il lancio del primo tank. In un'epoca in cui gli orologi da polso erano un accessorio emergente principalmente per uomini, l'introduzione di un orologio rettangolare rappresentò una vera e propria rivoluzione. Prima di questo, gli orologi da tasca erano il comune oggetto da polso maschile, portati appesi a una catena nella tasca del panciotto. La geniale idea di adattare l'orologio da tasca all'abbigliamento da polso portò a una serie di cambiamenti significativi nel design degli orologi. Mentre molti orologi dell'epoca avevano una forma rotonda, Cartier scelse di sfidare la norma e presentò il suo primo tank in una forma rettangolare. Il nome Tank fu ispirato dai carri armati britannici e francesi utilizzati nella Prima Guerra Mondiale, i cui cingoli riflettevano nei brancard laterali della cassa, creando un legame armonioso con il cinturino. Il Tank American, in particolare, si distingue per la sua cassa allungata e bombata, che segue la curvatura del polso. Una delle innovazioni più significative introdotte dal Tank American fu l'introduzione del bracciale regolabile con la fibbia pieghevole brevettata da Cartier nel 1909. Numeri romani e una minuteria a Sceman de Ferri impreziosiscono il quadrante argentato, mentre le lancette a forma di gladio in acciaio azzurrato aggiungono un tocco di raffinatezza. La corona ottagonale è ornata da uno spinello sintetico blu, che conferisce un tocco di colore distintivo. Alcune versioni del Tank American includono anche l'indicazione della data a ore 6 e una lancetta dei secondi centrale. Inoltre, i materiali di cassa disponibili includono acciaio, oro giallo, oro rosa o oro bianco, con opzioni di diamanti incastonati o senza. Il cinturino può essere in elegante pelle di allegatore o in metallo coordinato alla cassa. Per quanto riguarda il movimento, si può optare per il movimento al quarzo o l'artigianalità di un movimento meccanico a carica automatica, spesso con calibri di manifattura Cartier. Il Tank American è molto di più di un semplice orologio. È un simbolo di stile, classe ed eleganza.